Ci troviamo in presenza del sindaco di Gatteo per la presentazione della nuova stagione estiva di questa estate 2021. Buongiorno signor sindaco, allora anche quest'anno si riparte. Buongiorno a te, si riparte con tanta energia, non è certo una pandemia che ci può soffiare quel sorriso che abbiamo sempre avuto stampato in volto. Abbiamo lavorato tutto l'inverno, siamo pronti per ripartire, siamo abbastanza ansiosi perché abbiamo tante novità da presentare, una su tutte quelle che abbiamo presentato oggi che è la nuova piattaforma del Gatteo Mare Summer Village. È uno strumento che permetterà non solo a tutti i nostri ospiti o ai turisti che vorranno venire a visitare Gatteo Mare di apprezzare la nostra località comodamente seduta a casa, ma perché no, permetterà alle nostre aziende, da chi fa la piedina, a chi vende il gelato, a chi vende l'abbigliamento, a tutti i commercianti, i bagnini, di entrare nelle case di chiunque vorrà vedere o aprire questa finestra su Gatteo Mare. Quindi è un progetto molto importante a cui teniamo in modo particolare. Quindi diciamo una grande evoluzione per quanto riguarda la promozione turistica di Gatteo Mare. Ovviamente anche gli spettacoli quest'anno la fanno da padrone e immagino che ci siano come al solito le grandi iniziative dal punto di vista musicale. Ce le può riassumere in breve? Diciamo che il contenuto del nostro progetto è sempre molto ricco e ambizioso. Quest'anno abbiamo la fortuna di poter commemorare il maestro secondo Casadei e ahimè invece ci pone l'obbligo anche di ricordare il nostro amico Raul che ci ha lasciato da poco, non avremmo mai voluto farlo, ma purtroppo questo è accaduto. Però lui ha lasciato sempre un messaggio positivo che sarà il messaggio che noi vogliamo portare a tutti da quest'estate. Quindi nonostante ci si venga un po' tediati da questo coprifuoco che adesso funziona come una spada di damocle che abbiamo sulla nostra stagione estiva noi siamo certi che sarà un'estate ricca di eventi, ricca di intrattenimento e che questo limite non sarà sicuramente applicato. Noi ci stiamo preparando, preparando tante iniziative, tanti concerti, abbiamo pronte 150 attività di intrattenimento che nelle 70-80 serate che ci lascerà quest'estate sicuramente vuol dire due eventi a sera per intrattenere tutti i nostri ospiti, i nostri concittadini, gli amici dei comuni vicini che vorranno venire a passare le giornate o le serate a Gatteo Mare. Quindi sarà un'estate sempre ricolma di avvenimenti, la settimana del liscio, la tradizione che per noi è un po' la fada padrona, noi ci riteniamo la capitale del liscio e quindi questo non può far mancare ai nostri ospiti quella buona dose di, perché no, anche di ballo. Noi ci contiamo ancora tanto che si possa arrivare, ritornare a ballare, perché credo che sia l'esercizio ginnico che più rallegra e più fa meglio alla salute di tutti. E quindi oltre a questo di tante attrazioni, di tante serate di musica, di musica di cover band, tribute band, di gruppi anche a livello nazionale, tutti i nostri intrattenimenti, i parchi gioco, la rotonda, la ruota panoramica, piuttosto che il trenino, piuttosto che tutte le zone dove, e gli ambienti in cui i bimbi possono passare delle ore liete, soprattutto dove si possa stare assieme e perché no. L'auspicio è che grazie a una campagna vaccinale che sta avanzando in modo dirompente, poter mettere in soffitta questa maledetta mascherina. Appuntamento dunque a Gatteo Mare per un'altra coinvolgente estate 2021. Grazie signor Sindaco. Grazie Fulvio, grazie a tutti i telespettatori. Mi raccomando, ci vediamo tutti a Gatteo Mare quest'estate per poter ballare, mangiare, sosseggiare, abbronzarci in spiaggia, perché Gatteo Mare è la capitale del liscio. Ciao a tutti.